I prossimi giorni, almeno 5, saranno di gran caldo. Oggi sono nuove le città italiane da bollino rosso, lo dice il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Livello di allerta 3, valore massimo, interessa Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Domani saranno 14-16 entro venerdì. E Napoli con 36 gradi, l'unica città in verde, oggi, domani e venerdì. A fine luglio previsti temporali soprattutto al nord, poi secondo le previsioni tornerà il grande caldo.